Arriva la Guardia Nazionale a Charlotte, in North Carolina, dopo che il governatore ha dichiarato lo stato d'emergenza. Secondo giorno di disordini, stavolta ci sono stati degli spari che hanno ferito gravemente un manifestante, in circostanze ancora tutte da chiarire. Nelle prossime ore non si esclude il coprifuoco. La comunità nera non ci sta ad accettare la versione ufficiale dell'uccisione di Keith Scott, un nero di 43 anni da parte di un agente, così il capo della polizia della città che cerca di placare gli animi. Il video non mi dà nessuna prova definitiva che possa confermare il fatto che un uomo abbia puntato un'arma. Io, nel video, non l'ho visto. È spuntato però il video dell'episodio. Il rifiuto da parte della polizia di renderlo pubblico non ha fatto che esasperare gli stati d'animo. E a Baltimore un altro afroamericano è morto per mano della polizia. Il terzo caso del genere in pochi giorni, dopo quello di Charlotte, è Tulsa. L'ultima vittima si chiamava Tawon Boyd, aveva 21 anni ed era disarmato. Cinque agenti, giunti nel suo appartamento dopo una segnalazione, lo hanno affrontato e immobilizzato a terra. Non è chiaro cosa sia successo, ma dopo alcuni giorni di agonia, il ragazzo è morto.